Buongiorno ragazzi, oggi video della scrivania perché progetteremo insieme Infatti, notizia fantastica, mi ha contattato Xiaomi L'azienda famosa per i cellulari, si scrive così Però non fa solo cellulari, fanno un po' di tutto E lo fanno veramente bene, a livello di design sono tra i più bravi adesso Stile molto minimal, grandissimo livello di innovazione, una filosofia aziendale molto molto interessante Praticamente mi hanno contattato perché hanno visto la mia roba da design e mi hanno detto Amico, ci piace? Facciamo una cosa insieme? E quindi mi hanno proposto un progetto molto interessante Visto che uno dei valori principali dell'azienda è una fortissima community Mi hanno detto, perché non ci aiuti a capire cosa vuole la gente E quindi progetta il telefono del futuro con la tua community E quindi ho fatto una domanda su Instagram Ho chiesto, quali sono le caratteristiche che vorreste vedere in un telefono? Beh, mi avete risposto in tantissimi Figata E quindi con le funzioni che mi avete scritto su Instagram Ora progetteriamo insieme un telefono per Xiaomi Partiamo dalle dimensioni Display 18 noni Che è tipo quello dell'iPhone, quindi un po' più lungo Sono molto d'accordo su questa cosa perché i contenuti sono tutti verticali Quindi è logico che ci sia più spazio, è meglio Quindi display lungo Doppia fotocamera o tripla Ok Sensore di impronte sotto schermo Fingerprint scanner sotto lo schermo Va bene 6 pollici borderless 95% Ok Display 1080 Ok Porta USB-C Fatto Che costi poco Eh Un missile Questo non è un telefono, è un missile Airbag Ok Termometro per misurare la febbre Ok Jack audio Ok Tasti del volume al tritolo Ok Auto Velox Ok E chiudiamo con un modesto Che sia figo, dai Ok Vabbè, ce l'abbiamo Questo è il progetto che abbiamo fatto insieme Come vedete E ora con la forza del duro lavoro Lo vediamo Fatto un po' meglio Ecco a voi Lo Xiaomi Breccia People Edition Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.